Musica Buongiorno e benvenuti allora vediamo la lezione che abbiamo fatto mercoledì scorso in Edmondo dove abbiamo cominciato a introdurre le liste le liste per la programmazione di scripting è un concetto che non è proprio tra i più semplici possibili ma ho cercato di fare in modo tale da introdurlo in un modo il più semplice possibile allora per lista si intende un insieme una collezione di oggetti di numeri, di valori che sono correlati fra di loro l'esempio più semplice possibile di lista potrebbe essere una lista della spesa ad esempio qui ho fatto uno script che una volta cliccato mi ricorda di comprare il pane, il latte, le uova e la farina perché io ho inserito una lista dove ho inserito pane, latte, uova, farina e lo script al touch mi naviga la lista presentandomi il contenuto e cercando di capire chi ha cliccato uno script di questo tipo lo apriamo lo vediamo la lista della spesa è fondamentalmente composto da una lista della spesa per l'appunto dove c'è il costrutto list spesa a cui è assegnato il valore e poi c'è il valore della lista che è fra parentesi quadre quindi aperta quadra e poi la lista finisce con una chiusa quadra e all'interno ci sono un elenco di valori in questo caso di string di parole che si rappresentano nella nostra lista a lezione ho anche fatto notare che per produrre la parentesi quadra occorre premere sulle tastiere italiane c'è sulla tastiera la quadra però è accentata o sul più la chiusa se voi cliccate sulla e accentata vedete che ottenete l'e accentata per ottenere la quadra dovete premere anche alt gr più e accentata e vedete che ottenete la quadra analogamente se permette il più dove c'è anche il simbolo di quadra per ottenere la parentesi quadra occorre fare alt gr chiusa quadra ok? allora detto questo allora lo script cosa fa? elenca semplicemente una lista e poi ha due stati fondamentali il primo è lo state entry in cui dice che lo script sta in esecuzione script running ma soprattutto presenta in cima lista della spesa toccami per sapere cosa comprare quindi vedete che è scritto ll set text quindi scrivimi sopra questa serie di parole che sono spezzate con questo barra n per poter andare a capo per poter far vedere un pochino meglio se non avessimo messo questi barra n la lista sarebbe cioè questo titolo sarebbe comparso tutto tutto lungo lungo è difficile da leggere qui abbiamo ancora il colore quindi se volessimo averlo RGB cioè quindi red, green, blu cioè rossa, verde, blu se volessimo averlo solo rossa o verde per esempio la cosa dobbiamo mettergli al 100% che è 1 il valore G green in questo modo quindi se salvassimo lo script vedremo che la lista è scritta in verde ma quello che ci interessa a noi fondamentalmente è vedere cosa faccia il touch start quando tocchiamo questo oggetto individuiamo il nome dell'avatar che ha toccato quindi si fa con un ll detected name di 0 dopodiché si fa un ciclo for che enumera cioè prende tutti gli elementi della lista partendo dall'elemento 0 perché nelle liste il primo elemento ha il numero 0 poi questo avrà l'elemento 1 2 3 quindi una lista di 4 elementi ha gli elementi che vengono indicati con lo 0 primo 1 il secondo 2 il terzo e il 3 il quarto questo potrebbe essere un pochino confusionario ma è così e funziona quasi tutti così quasi tutto così nello scripting e anche nella programmazione quindi cosa facciamo e numeriamo quindi for è un tipico numeratore cioè quindi numeratore vuol dire qualche cosa che viaggia su tutti gli elementi di un insieme quindi partendo dall'elemento che vale 0 esegue quello che c'è fra le parentesi graffe una volta poi verifica se il se il valore di i soddisfa il secondo elemento cioè fin tanto che i è minore della lunghezza della lista allora se è ancora minore della lunghezza della lista prova a fare i++ quindi lo incrementa anzi in teoria dovrebbe fare prima esegue il il ciclo interno questo blocco poi incrementa quindi i++ è il fattore di incremento del ciclo questo è un ciclo e poi applica il check per vedere se deve ripetere ok allora quindi in questo modo lui prende tutti gli elementi della stringa quindi cosa fa dice nella chat pubblica sul canale 0 avatar name quindi il nome dell'avatar che è appena toccato dice compra ricordati di comprare e poi prende l'iesimo elemento di spesa quindi ll list to string prende data una lista e un numero prende questo il numero l'elemento caratterizzato da quel numero quindi io all'inizio vali 0 prende l'elemento 0 e ti fa vedere vi fa vedere che cosa deve essere comprato quindi noi facciamo il touch di questo oggetto e vedete che abbiamo istantaneamente la lista della spesa questo è il primo esempio di script che abbiamo visto mercoledì scorso e che includerò anche in past e bin così lo potrete scaricare anche sotto questo video ma andiamo anche in altre cose quindi questo era il primo no andiamo nel qui nell'host and phone quindi abbiamo lista avatar allora la lista avatar è un secondo esempio che abbiamo visto in cui man mano che gli avatar cliccano quindi adesso purtroppo per questo video ci sono io ma potete credermi quando clicco vedete che mi dice registrato il nome del mio avatar se io lo riclicco lui mi registra e mi dice di nuovo il mio nome a questo punto io posso chiedere questo questo script barra 10 list e vedere chi ha cliccato e vedete che risponde adesso qui rispondono anche altri ci sono anche altri oggetti lasciati qua in giro che stanno rispondendo fondamentalmente sta rispondendo comunque anzi per vedere che è proprio lui che sta rispondendo gli possiamo cambiare nome quindi possiamo dire lista avatar video ok quindi a questo punto nel momento in che facciamo barra 10 list vediamo che lui risponderà quindi lista avatar video ah si perché ha registrato anche tutti quindi era sempre lui che rispondeva e c'erano tutti gli avatar che aveva già registrato della volta precedente per resettare questo questo script quindi per farlo ripartire da una lista vuota occorre fare barra 10 reset barra 10 reset quindi lui si pulisce la memoria quindi quando lo clicco e mi registro tre volte mi aspetto che nel momento in cui faccio barra 10 list ok faccio vedere soltanto le tre volte in cui l'ho cliccato io ora lo script ora l'unica differenza fra questo tipo di lista e la precedente è che mentre prima c'era una lista che era scritta una volta per tutte dentro lo script e non poteva variare in questo esempio la lista è composta dinamicamente cioè vuol dire che man mano che le persone cliccano sull'oggetto il loro nome e cognome viene aggiunto in una lista quindi vediamo questo trucco quindi come facciamo a fare in modo tale che la lista inizialmente vuota venga alimentata con un valore dinamico semplice allora inizialmente abbiamo una lista di avatar che è vuota vuota vuol dire che è uguale aperta quadra chiusa quadra poi qui c'è lo state entry dove dice semplicemente in cima da un po' di aiuto dice fammi barra 10 list o barra 10 reset però sostanzialmente si risponde sul canale 10 sul canale 10 perché sono gli ordini appunto in cui potrei dargli list oppure reset quindi lui cosa fa se gli ho detto reset fa l l reset script se gli ho detto list fa una navigazione della lista con la tecnica che abbiamo visto prima quindi fa for i uguale 0 finché i è minore della lunghezza della lista avatar incrementa i e man mano dipinge il contenuto mentre invece la cosa fondamentale è quello che fa quando fa il touch start quando fa il touch start deve essere aggiunto un nome alla lista degli avatar quindi deve prima di tutto individuare il nome dell'avatar che ha toccato quindi string avatar name dopodiché farà un avatar più uguale aperta quadra avatar name chiusa quadra questo è il modo che si usa per agganciare per aggiungere un elemento in fondo a una lista quindi se avatar era la lista iniziale vuota dopo aver eseguito questo comando la lista diventerà lunga un elemento e avrà il nome dell'avatar dopodiché dico ll60 registrato e poi il nome dell'avatar avete notato che questo esempio ha un difetto perché se io voglio semplicemente selezionare chi c'è chi ha toccato ma se uno ha toccato più di una volta non voglio elencarlo n volte non riesco cioè ottengo tanti elementi confusi quindi abbiamo una variante che è questa lista avatar senza ripetizione che è praticamente identico a quello di prima allo script che abbiamo visto prima però con la differenza che se io clicco più di una volta quindi se io ad esempio qui clicco vedete che mi dice se ho già cliccato lui non mi registra più e mi registra una sola volta a meno che io non gli faccia il reset quindi non gli faccia perdere la memoria comunque questo risponde sul canale 20 barra 20 list questi sono tutti gli avatar dunque barra ah no sempre 10 risponde dice lui quindi facciamo barra allora questo qui per evitare disturbi e disagi lo disabilitiamo lo script dell'altro prendiamo questo qua e gli facciamo barra 10 list e vedete che list avatar senza ripetizione compaiono i nomi della gente che l'aveva cliccato durante la reazione notate che quando ho fatto il take dell'oggetto in inventory la lista viene conservata quindi un'informazione che persiste nell'inventory con l'oggetto e questa è una cosa molto interessante se io però voglio ripulirlo faccio come vi ho detto prima barra 10 reset a questo punto se io faccio barra 10 list il contenuto della lista è vuoto se io clicco e faccio il touch vedete che è registrato se io clicco più di una volta non mi registra più di una volta e poi barra 10 list vediamo che c'è semplicemente tra gli avatar che hanno toccato il mio nome che non è ripetuto ora il culmine della reazione è stato quello di fare un sensor cioè uno script che consente di registrare tutti quelli che sono vicini che si avvicinano allo script e questo lo ottengo con questo script che si chiama lista avatar con sensor e questa volta rispondiamo sul canale 20 quindi qua abbiamo abbiamo questa cosa oh mi sono dimenticato di spiegare un po' lo script di questo quindi lo riprendiamo un momento scusate scusate il difetto quindi apriamo questo script e vediamo brevemente come fa a sapere che un avatar l'aveva già toccato lo script è identico a quello che abbiamo visto prima su quello degli avatar che toccavano è cambiato soltanto un pezzo mentre prima facevamo direttamente l'avatar più uguale quindi qua agganciavamo il nome dell'avatar adesso abbiamo introdotto un integer found uguale a llist find list che è un comando di scripting che consente di vedere se un certo avatar name è già compreso dentro la lista degli avatar questa llist find list mi torna alla posizione in cui un certo elemento se c'è è compreso dentro la lista se non lo trovo found vale un numero minore di 0 cioè meno 1 altrimenti può valere da 0 a n meno 1 se n è il numero di elementi della lista quindi se io non lo trovo quindi found minore di 0 devo aggiungerlo se io invece l'ho trovato devo segnalare che il nome è già registrato e quindi in questo modo aggiungendo questi due questa funzione di ricerca di lista e questo test se ho trovato o meno riesco a evitare i duplicati cosa che è molto interessante vediamo invece come funziona questo script allora come vedete se si avvicina qualcuno a distanza di un certo quantità di metri lui registra anche senza bisogno di fare il touch quindi questo è un sensore si dice o un radar che permette di vedere se si è avvicinato qualcuno quindi vediamo lo script e di conseguenza permette di avere barra 20 list mi permette di vedere tutte le persone che si sono avvicinate anche qui possiamo fare barra 20 reset dopodichè lui c'è un ciclo per cui fa il test ogni 5 secondi ecco vedete sono passati i 5 secondi lui ha visto chi c'è vicino e ha elencato i due vicini quindi facendo barra 20 list abbiamo il nostro abbiamo la nostra bella lista adesso c'è Roberto gli informo quindi vedete siamo in tempo reale dentro 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 Edmondo allora vediamo un attimino questo script quindi lo script vedete che è molto simile a quello prima con la differenza che questa volta abbiamo un LL sensor repeat questo LL sensor repeat vedete che ha come condizione di ricerca qua ha vari parametri di cui non ve li spiego tutti comunque questo imposta un radar impostando un radar vado a cercare tutti gli agenti che sono gli avatar che sono vicini ha una distanza compresa al massimo 96 metri più di 96 non si può fare poi si dice il raggio l'angolo di azione in questo caso è pi greca rispetto alla X quindi qua praticamente vede la X dove c'è la freccia rossa lui registra tutti gli avatar che trova nel cono davanti quindi questo può essere utile per avere un radar direzionale che fa vedere le cose che stanno proprio di fronte a se stessa tipo per fare un giochino dove c'è delle arme ma nel caso nostro invece ci interessa sapere tutto tra i 360 gradi quindi abbiamo un cono di 180 gradi davanti ma tenete conto che viaggia anche dietro quindi sia davanti che dietro quindi mettendo pi greca che è 180 gradi lui registra tutto ciò che sta attorno nel raggio di 96 metri e poi l'ultimo parametro indica il rate aspettate come lo chiama il flood rate quindi è giusto quindi ogni quanti secondi dei radar per vedere se c'è qualcuno allora cosa succede qua abbiamo la listen che fa come prima che fa il reset list quello che è cambiato è che non abbiamo più il touch ma abbiamo messo un sensor e il sensor fa per ogni avatar che riesce a registrare quindi foro uguale 0 per i minori di count perché count dice quanti avatar sono più o meno vicini e per ogni avatar che ha registrato esegue fondamentalmente che cosa calcola il nome dell'avatar per vedere se questo avatar come prima era già registrato nella lista se non l'ha trovato nella lista allora lo aggiunge nella lista e quindi in questo modo noi abbiamo una sorta di appello di tutti i presenti che può essere usato anche per capire senza dover stare lì a fare un appello esplicito chi c'è o chi manca questo genere di automatismo abbiamo verificato che in second life ma anche in open sim può essere molto utile e comunque la lista dei presenti cioè di quelli che hanno toccato o di quelli che sono vicini allo script è già una prima applicazione che ha un suo valore che viene sfruttata molto e con questo direi che la prima lezione sulle liste è stata completata mercoledì e quindi ci vediamo mercoledì prossimo per un avanzamento per analizzare altre cose vi ringrazio buona serata arrivederci